Preso il branco delle rapine violente nelle notti di Napoli, otto gli arresti tra misure cautelari in carcere e domiciliari, dei brutali banditi che lo scorso giugno pestarono a sangue un poliziotto libero dal servizio e anche sua moglie davanti ai loro figli nel traffico del lungomare. Nel branco c'è anche Monica Amato, la figlia di Rosaria Pagano, una delle donne boss degli scissionisti di Scampia. Spietati e coesi in sella gli scooter, si muovevano in base ad un preciso modus operandi, sceglievano la zona della Movida per aggredire e rapinare senza pietà. Gli otto sono stati individuati dalle forze dell'ordine grazie alle testimonianze rese e alle immagini della videosorveglianza che li hanno inchiodati alle loro responsabilità. L'agente era a bordo della sua auto con la sua famiglia quando si accorse di essere seguito da quegli otto in sella a dei motorini. Uno degli scooter si piazzò di traverso sulla carreggiata per bloccare la vettura. Un altro componente del branco aprì la portiera minacciando e picchiando il poliziotto che si era regolarmente qualificato. Anche sua moglie, che tentò disperatamente di sottrarlo a quella furia, venne colpita da alcuni degli aggressori a colpi di casco protettivo. I banditi si scagliarono contro quell'autovettura senza tener conto che all'interno c'erano due bambini terrorizzati.